Marco, allora, si avvicina una data importante per voi, quello dello sciopero, però partiamo da un fatto, voi non siete attivi solo due volte all'anno, diciamo, quando ci sono scioperi, ma fate molto altro sul territorio durante tutto l'anno. Sì, come Fridays ci piace fare molte iniziative sul territorio durante tutto l'anno, a partire dalla sensibilizzazione nelle scuole medie e superiori, che per noi è un punto fondamentale, ma anche tanti eventi di conferenza, di dialogo con associazioni del territorio e imprenditori, perché crediamo che il tema dell'ambientalismo e del green vada affrontato a davvero 360 gradi. Ecco, allora, facciamo un po' un accenno ai vari eventi che avete fatto sul territorio, per esempio, incontri anche con imprenditori. Sì, proprio la settimana scorsa abbiamo partecipato a un evento organizzato a Modena, insieme ad alcuni imprenditori del territorio, facenti parte dei vari comparti, dall'agricolo a quello artigianale, ma anche investitori, insieme anche alle Gambiente di Modena, abbiamo avuto una bella conversazione su quello che è il tema dell'imprenditoria green nel futuro del nostro paese, della nostra regione. Siete molto attivi nelle scuole, come hai accennato, però, insomma, voi vi rivolgete a tutte le età, anche ai più grandi. Sì, noi siamo molto attivi nelle scuole perché comunque è il nostro bacino principale, è da lì che vengono i ragazzi che ci aiutano e che collaborano a organizzare tutti i nostri eventi, ma crediamo, come ho detto prima, che l'impegno verde, l'impegno ambientalista sia un impegno che tutti possono avere, che anzi tutti dovrebbero avere, per cui ci piace molto fare attività in collaborazione sia con persone più adulte, ma anche con bambini delle elementari o anche più piccoli. E che tipo di risposta vi sta dando la popolazione a queste vostre iniziative? La popolazione sta dando una buona risposta, in realtà. L'affluenza è sempre buona, ci sono sempre domande, è sempre un tema comunque molto caldo, visto il periodo che stiamo vivendo. Alessio, allora, diciamo che c'è anche emozione perché si avvicina la data dello sciopero, diamo qualche indicazione anche in logistica. Allora, praticamente lo sciopero partirà per le otto e mezza dal Volta, dall'Istituto Volta, dal polo scolastico ci sarà questo corteo che si sposterà verso il Parco Ducale, dove ci sarà la prima tappa, dopodiché si passerà in mezzo al mercato per il centro, fino a finire al Piazzale della Rosa, dove ci sarà l'ultima tappa e quindi una serie di interventi sia dalle associazioni, dai movimenti che dal pubblico. Sarà un momento appunto di protesta, tra virgolette, ma anche di attivismo concreto. Esatto, sarà una marcia pacifica e non violenta ovviamente, ma ci sarà anche uno stop al Parco Ducale durante il percorso, dove ci sarà un'associazione che farà un plugging, il nostro co-collaborazione, ovvero una pulizia del parco. E nel frattempo i ragazzi, le associazioni, i membri dello sciopero faranno cartelloni, si parlerà, si faranno interventi. Lo sciopero sarà il 23 settembre, quindi una data vicinissima a un'altra data importantissima per l'Italia, ovvero le elezioni. Cosa chiedete voi alla politica? Esatto, lo sciopero sarà esattamente due giorni prima delle elezioni anticipate. In verità lo sciopero è stato scelto a livello globale molti mesi prima, ma vista le elezioni anticipate, Freddy's for Future Italia ha deciso di declinarlo in modo politico anche, perché noi siamo un movimento a partitico, ma siamo un movimento politico. Per cui questo sciopero del 23 settembre sarà molto importante rispetto agli altri, perché crederemo delle elezioni che siano elezioni per il clima, elezioni per la nostra generazione, che rispondano alle esigenze che la crisi climatica ci porta davanti. Grazie.